Ma che fai qui? Tu ho aspettato. Ah, bravo, grazie. Penso che è meglio che torniamo a casa insieme. Certo. Che donna, caro mio. Straordinaria. Sai che cosa mi ha detto? Che se sapevo cantare, mi scritturava. Parola. Mi portava in compagnia con lei. Mica sarebbe una brutta vita, sai. Viaggi, sei libero, ti diverti, senza preoccupazioni, sempre in mezzo alle donne. Ah, come si stava meglio prima. E tu? Io niente. Beh, perché? Non era mica brutta, però. Ma che hai? Niente, pensavo. A che cosa? A Sandra. Ma che c'entra Sandra adesso? Che mi vuoi fare la morale? Ah, allora è per questo che mi hai aspettato. Eh? Di, rispondi.